cosa ti dice autostima o amore del sé come lo chiamo io tutti la vorrebbero e veramente in pochi ce l'hanno si ha detto tanto sull'argomento dai anni otanti in cui ho fatto cominciato a fare i miei primi seminari ancora con sotto legida della signora Luisei sull'argomento fino a oggi successo tanto l'unica cosa che ti posso garantire non si acquisisce facendo formazione di come vendersi meglio di come parlare meglio davanti altri o di come commercializzare meglio il proprio prodotto amore del sé a questa piccola parolina che si chiama comunque amore ci sei dentro tu la tua capacità il tutto ciò che tu senti di te del tuo mondo la tua sensazione profonda la tua valutazione che tu hai di te stesso ma non qui nella pancia l'ado dove tu non ci arrivi e quella è la base per ogni tuo successo o insuccesso nella vita là si scendono le acque decidi vuoi sapere qualcosa di più sull'argomento è uno dei argomenti guida che noi trattiamo durante il check up a motivo pensaci